Buongiorno, benvenuti in questo nuovo spazio dedicato ai libri. La nostra ospite di oggi è una scrittrice originaria di Catania, anche se da anni vive a Roma. È stata protagonista di diversi programmi televisivi, ha scritto tanti libri, è stata anche chiacchierata e oggi, oltre a fare la scrittrice, fa l'astrologa. Lei è Melissa Panarello, intanto benvenuta. Ciao, grazie, grazie a tutti e buongiorno a tutti. Oggi parliamo del tuo decimo libro, che è di Cani, edito Mondadori, a parte che ha una cover spettacolare, bellissima, molto suggestiva, e parla, racconta la storia di questa protagonista che si chiama Greta, poco più che 17enne, che praticamente resta sola. Lei perde tutto, perde la famiglia, perde la nonna, che è appunto il legame più forte che le ha dopo la perdita dei genitori, e viene affidata ad una casa famiglia. Lì inizia un percorso di ricostruzione dell'identità di questa Greta, e quindi cerca di ricostruire quello che è il suo passato, però attraverso un percorso particolare, che è quello della magia. Melissa, di chi sono questi cuori arcani e chi è Greta? Giustamente, come dici tu, Greta è una ragazza che è rimasta sola e che quindi deve ritrovare un proprio posto nel mondo, ma l'avrebbe fatto comunque perché stiamo parlando di un adolescente, quindi ancora in cerca di quello che è e di quello che vuole diventare. Il suo percorso di crescita è segnato dal ritrovamento di queste strane carte che scopre nel cassetto della nonna. poco prima di andare via dalla casa tanto amata in cui ha vissuto con la nonna, scopre appunto fra le varie medicine e carte e bollette della nonna queste strane carte che non aveva mai visto, anche perché appunto lei è sempre stata cresciuta con l'idea e con il diktat della nonna che dovesse fidarsi soltanto della sua mente, di tutto ciò che è razionale. Quindi scopre queste carte e pian piano, vivendo nella solitudine, nella sua nuova condizione, entra in contatto profondo con questi tarocchi e capisce che hanno molte più cose da dirle di quanto lei prima sospettasse. Questo ovviamente la fa entrare in crisi perché mette in discussione tutte le sue certezze e quindi si avvicina a questo mondo magico con una sorta di terrore e di attrazione che è uno dei sentimenti più presenti nel libro, cioè i due sentimenti più presenti nel libro. Greta è una ragazza che si fa tantissimo attrarre da tutte le cose di cui ha paura, in qualche modo. Esatto, infatti tu hai parlato proprio dei tarocchi. Il tuo libro ha una struttura molto particolare, cioè tutti i capitoli hanno il nome di una carta dei tarocchi. Però quello che ho notato è che tu inizi con il matto e termini con la stessa carta. Che valore ha questo il matto nei tarocchi? Il matto è sicuramente l'origine, è la carta senza numero, lo zero. Insomma tutto parte da lì. Il matto è l'inizio di tutte le cose. Io non ho messo le carte in ordine cronologico, insomma dalla prima all'ultima. Le ho messe, ho messo i titoli, ai capitoli, che in qualche modo la carta rappresenta l'anima del capitolo in questione. Quindi il matto all'inizio è proprio, come dire, mi è servito a dare inizio a questa storia. Mentre il matto alla fine dà inizio alla storia di Greta vera e propria, cioè alla sua storia personale. Da quel momento in poi, dalla fine in poi del libro, Greta diventa qualcos'altro e quindi lì ha inizio la sua vita vera. Infatti il finale è abbastanza spiazzante, secondo me, rispetto alla storia. È proprio il finale che diventa un nuovo inizio. Quindi forse è proprio per questo tu hai ricongiunto il matto sia all'inizio che alla fine. Perché è un inizio e una fine, ma anche un nuovo inizio partendo dalla fine. Esatto, molto bello. È un romanzo quasi circolare, possiamo dire, in questo senso. Sì, sì, è un romanzo circolare laddove appunto ogni morte corrisponde a una rinascita. Quindi Greta si trova proprio in quel momento della vita in cui tutti ci siamo trovati, soprattutto a quell'età in cui una parte di noi muore inevitabilmente e diamo vita a qualcos'altro, a qualcosa di nuovo. Questo può accadere però a qualsiasi età ovviamente, non è solo una cosa che riguarda l'adolescenza, la pre-adolescenza. C'è sempre un momento in cui devi lasciare andare delle cose tue che sono sia persone o cose materiali, ma soprattutto sono cose interne che ti riguardano, che parlano di te e dire a Dio per sempre queste cose e cominciare a essere qualcos'altro. Esatto. Tu hai parlato all'inizio appunto di magia, perché in effetti nel tuo libro è molto presente questo aspetto della magia e in particolar modo delle tradizioni siciliane, perché è ambientato questo romanzo a Catania e parli delle donne di vento e delle donne di notti. Chi sono queste fate fantastiche? Peraltro voglio dirti anche un'altra cosa, che a Palermo c'è una zona, ma che tu sicuramente conoscerai, che si chiama Piazzetta delle Sette Fate, che proprio fa riferimento a quello che tu ora appunto mi dirai riguardo questa tradizione. Sì, infatti intanto diciamo che in Sicilia non facciamo tanto la differenza tra streghe e fate. Abbiamo molto chiaro il fatto che appunto le streghe siano fondamentalmente delle fate, cioè delle persone che ti portano, che ti fanno incontrare il tuo fato, nel vero senso della parola, che ti conducono verso il tuo destino. Le donne di notti sono degli esseri, degli spiriti che vengono trovati appunto di notte e che sono il terrore soprattutto delle madri. Nel nostro folklore appunto le donne di notti sono quelle che prendono i bambini, li prendono dalla culla e li mettono per terra, oppure che creano scompiglio in casa. Ecco, sono quelli che insomma più volgarmente sono conosciuti come poltergeist, però sono sempre donne, sono sempre donne quindi all'interno di una loro congrega e questa è una tradizione veramente secolare, insomma è una cosa di cui si parla da secoli, vengono anche chiamate donne di fuori, cioè che vanno fuori. Una cosa che io mi ricordo da bambina che mi veniva raccontata è che si poteva documentare il loro passaggio se avessi trovato dietro la mia testa i capelli intrecciati. Ecco, loro si fanno, testimoniano la loro presenza notturna appunto intrecciando di capelli. Ed è una cosa che mi ha sempre affascinato, ecco, una storia, una leggenda che come tutte le leggende ha sicuramente qualcosa di vero. Quindi tu ci credi alle donne di notti o alle donne di fuori? Sì, 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 assolutamente. Non sono considerato esserne parte, tra l'altro. Il saluto quando si entra in una casa anche se è vuota e il saluto quando si esce da una casa anche se è vuota? Esatto, no, ma sono tutti quegli accorgimenti, lasciare per esempio il cibo sopra il tavolo la notte quando senti che la tua casa in qualche modo è abitata da altri esseri devi lasciare un vassoio sul tavolo o con le scarpe lucidate in modo che poi possano andarsene. Insomma, sono tutta una serie di cose che si possono fare per accogliere o al contrario per mandare via queste presenze che sono estremamente affascinanti. Sì, assolutamente. E appunto a proposito di presenze affascinanti, nel libro c'è un'altra figura affascinante e inquietante allo stesso tempo che è quella di Arturo. Peraltro hai scelto un nome che ricorda molto Elsa Morante, diciamo così, anche perché è una stella e ha vari significati. Anche se credo che nel tuo libro la simbologia dei nomi sia importante. Rosetta, Arturo, insomma c'è una serie di… non lo so, a me ha dato questa impressione che ci sia molta simbologia non soltanto nelle carte ma anche nella scelta dei nomi. Ma guarda, più che simbologia, sui nomi in particolar modo sono state tutte scelte affettive dettate proprio da questioni personali. Per esempio Zia Rosetta era la bidella degli elementari dove io andavo, a cui ero molto legata, molto affezionata. La vedevo sempre come appunto questa donna un po' anziana, buona, che ci preparava da mangiare e che ci accudiva. Arturo è… l'ho scelto perché io nel periodo in cui ho cominciato a scrivere questo libro era incinta e quindi con il mio compagno stavamo decidendo che nome dare al nostro figlio e Arturo era uno di questi nomi che poi è stato accantonato, ma continuava a piacermi tanto per cui ho detto vabbè lo uso lo stesso, l'ho usato in Arturo. Per un altro figlio diciamo. Sì esatto, esatto. Quindi ci sono delle scelte dettate appunto dall'affetto. Ok, e Arturo invece questa figura che è presenza-assenza, diciamo così, nel romanzo, che amore è quello che a un certo punto si instaura tra Greta e Arturo? Perché è un amore sui generis? Ma guarda, io avevo molta voglia di raccontare Un amore impossibile ed era veramente l'intenzione che ho avuto fin dall'inizio, solo che poi man mano che continuavo a scrivere, andavo avanti nella storia, mi sono resa conto che quell'amore andava da un'altra parte e non ho voluto ostacolare questa decisione dei personaggi, dei protagonisti. Ho voluto rendere, o meglio, si è reso da solo, come dicevo, questo amore non solo impossibile ma anche falso in qualche modo, cioè non quello che ci si aspetta senza dubbio. Noi siamo abituati, per esempio, alle storie di Twilight, dove c'è l'amore impossibile fra una mortale e un vampiro e lì però, come dire, appunto, vince l'amore romantico. In questo caso volevo che ci fosse un elemento di modernità, cioè quante volte noi donne ci siamo sentite sfruttate dagli uomini per i loro fini? A livello anche materiale, non soltanto sentimentale o emotivo. Cioè quante volte gli uomini hanno approfittato di una donna per avere in cambio qualcosa? Arturo si rivela essere questo tipo di uomo e quindi, secondo me, insomma, è un fatto molto attuale. Cioè l'amore romantico sì, è quello che desideriamo tutte, ma poi la realtà dei fatti è anche un'altra. Non sempre, fortunatamente, ma a volte è così. Quindi ho voluto raccontare questo altro aspetto dell'amore, questa altra faccia. Ma a te è mai capitato di sentirti sfruttata in questo modo o essere trattata male? Beh, ma certo. Sì, è passato tante volte. Poi si impara dai propri errori, non c'è dubbio. Infatti, immagino che comunque tu hai avuto un grandissimo successo nel 2003, perché quando è uscito il tuo primo libro, Cento colpi di spazio, prima di andare a dormire, edito da Fazzi, immagino che comunque ti sei ritrovata al centro di una situazione forse più grande di te, anche perché tu avevi la stessa età della tua protagonista, Greta, di quest'ultimo libro. Come ci si sente ad essere travolti da questo successo inaspettato a quell'età, peraltro? Ma è stato più facile a quell'età che oggi, sicuramente. Oggi l'avrei vissuto piuttosto male, credo, mentre a quell'età non ti rendi conto della grandezza delle cose. Vivi tutto come un'avventura, come un gioco, come qualcosa di inaspettato, ma allo stesso tempo di meritato, con una sorta di onnipotenza che poi, fortunatamente, negli anni perdi. Quindi aver avuto quel successo di 17 anni mi ha salvato. Se l'avessi avuto adesso, insomma, sarebbe stato veramente complicato gestirlo. Non ho mai vissuto, ecco, non ho mai vissuto il mio successo professionale come un successo personale. Cioè non mi sono mai sentita una persona arrivata o migliore o realizzata in pieno perché ho avuto successo con un libro. Semplicemente ho avuto successo con un libro, punto. Una cosa che riguarda semplicemente il mio lavoro, la mia carriera e che mi ha permesso poi di avere tutta la libertà che ho desiderato. Cioè io dopo quel libro non mi sono più posto il problema adesso devo scrivere qualcosa che faccia successo, adesso devo scrivere qualcosa che è a secondi le aspettative dei lettori. Ho sempre scritto le cose che mi piaceva scrivere nel momento in cui volevo farlo, con chi volevo farlo. E questo grazie appunto a quel grande successo. E chi ti ha trattato più male durante quel periodo in cui ti sei sentita al centro di tutto ed eri molto chiacchierata? Ma trattato male, come dire, non è che sono stata maltrattata. No, non mi faccio maltrattare in ogni caso. Però sicuramente all'inizio i lettori, ma soprattutto i non lettori, cioè quelli che sapevano del libro mi conoscevano ma probabilmente non avevano letto il libro oppure l'avevano anche letto, ci mancherebbe. Ecco, da parte degli sconosciuti ho avuto tantissimo rancore come se non mi avessero perdonato il fatto di aver raccontato delle cose che tutti magari facevano, che tutti magari fanno, tutti fanno da sempre e però non era in qualche modo permesso raccontarlo nel 2003. Oggi è tutto cambiato, naturalmente. È gestoganato anche come tematica probabilmente. Sì, non è più, insomma, una ragazza a 17 anni dice di fare sesso non è assolutamente più una cosa fuori dagli schemi. Come è giusto che fosse? Cioè per me era normale anche al tempo. Io non ho mai pensato di scandalizzare o di raccontare una cosa così assurda. Per me era normale. Quindi non ti aspettavi il successo che poi ha avuto questo romanzo che ha dato vita poi alla tua carriera appunto? Beh no, intanto perché a 16 anni come fai a sapere che cosa può avere successo e cosa no? Non lo puoi proprio immaginare. Ma io neanche adesso lo potrei immaginare. Cioè se io oggi avessi la formula perfetta per fare un libro di successo ma la farei? Ma la farebbe chiunque? Infatti mi hanno sempre fatto ridere, anzi sorridere, quelli che mi hanno sempre accusato di essere furba, di aver orchestrato il successo. Ma fossi stata così furba l'avrei orchestrato per dieci libri. Quel tipo di successo non è, insomma, non è, non è stata furbizia. È stata fortuna, è stato sicuramente da parte mia il trovare il momento giusto con la storia giusta, ma è stato un incastro di coincidenze. Però in ogni caso i tuoi libri hanno avuto sempre grande successo. A differenza di quello che ha detto di te Fazzi, l'editore che non sai scrivere, anzi ti ha definito perfino luciferina qualche anno fa. Lì fa ridere perché, insomma, se un editore pubblica tre libri, tre tuoi libri, il fatto che ti dica che non sai scrivere va a suo sfavore, vuol dire che lui non ce l'ha capito niente per tre libri, per cui o lui non sai leggere o io non so scrivere. Comunque, insomma, io ho dieci libri ho scritto, penso di averli scritti, penso comunque di averli scritti. Sì, scritti bene, hanno avuto tutti grande successo. Invece per tornare appunto alla scrittura di questo libro, come nasce l'esigenza di scriverlo e quando nasce l'esigenza di scriverlo? Guarda, è stato il primo libro della mia vita che ho scritto sotto, non dico proposta, proprio sotto uno stimolo. Mi ha chiamato l'editor della collana Young Adult di Mondadori, Simona Casonato, e mi ha chiesto, senti, ma ti andrebbe di scrivere un libro sui tarocchi, sull'astrologia, visto che tu sei un'appassionata? E io lì per lì ho detto, beh sì, certo, non c'è dubbio. Poi però sono tornata a casa ed ero terrorizzata, perché non sapevo come fare per scrivere un libro per adolescenti, sugli adolescenti. Era un mondo finora mai esplorato, come lettrice poco, come scrittrice per niente. Quindi mi sono avvicinata con grande umiltà e con grande terrore, fermo restando che appunto il tema mi piaceva tantissimo, perché volevo raccontare di traocchi, di magia, di astrologia. E poi pian piano la storia è venuta fuori e mi sono divertita tantissimo. È il libro che mi ha divertito più in assoluto scrivere, che ancora oggi mi manca. Ecco, è un mondo quello che ho costruito, molto semplice, ma alla fine è che mi manca parecchio. No, ed è vero, perché questa cosa del divertimento che dici tu si vede e la trasmetti anche al lettore. Peraltro le tradizioni siciliane che tu appunto riporti nel libro non sono tanto esplorate a livello di narrativa oggi. Quindi diciamo che hai fatto una cosa in più, forse andando a ripescare tutta una serie di tradizioni che forse stanno in qualche modo scomparendo. Ma un'altra domanda che ti volevo fare è come diventa l'astrologia il tuo lavoro? Beh, ma anche lì come un caso, io devo dire che sarà che mio padre mi ha sempre dato un'educazione di tipo molto pratico, di cui sono molto fiera, insomma, mi sono molto contenta che questo sia successo. Però tutti i miei hobby li ho sempre fatti diventare poi dei mestieri, dei lavori. Quindi l'astrologia che è arrivata tardi nella mia vita, i tra occhi sono arrivati prestissimo, proprio da bambina, l'astrologia è arrivata quando avevo più di vent'anni e per caso, per gioco, per puria curiosità, ho capito che era una cosa che mi appassionava tantissimo ed è diventata un po' per caso lavoro, perché a un certo punto una giornalista di Grazia, il giornale con il quale collaboro, mi disse, senti, cerchiamo un astrologa, ti andrebbe? E quindi così è stato, e da dieci anni almeno adesso scrivo Roscopi per Grazia. Ma è un po' una... ci sono state le carte come se ci sta Greta a trovare te o viceversa? Beh sì, sono state le carte a trovare me, nel senso che non sono mai andata a cercarle, ma erano a casa, erano degli oggetti che giravano per caso, comunque giravano fra le persone che noi in famiglia frequentavamo e quindi non sono mai state delle cose che ho scoperto a un certo punto della vita, sono state sempre lì come, non so, come un soppellettile, come le posate, piuttosto che i vasi. Quindi, però io, insomma, le usavo parecchio. Quindi poi sono diventati il tuo lavoro, quello è diventato il tuo lavoro ed è le carte. Beh, le carte non sono diventate un lavoro, ma perché le carte e l'astrologia sono cose molto diverse e, insomma, io mi fido più dell'astrologia che delle carte, ma semplicemente perché nelle carte è necessaria l'interpretazione, quindi è tutto basato sull'intuito, mentre nell'astrologia si tratta invece di calcoli e di osservazione di movimenti celesti, quindi è proprio un altro approccio, non fanno parte della stessa disciplina. Ma Melissa, mamma, adesso com'è cambiata? Ma in nessun modo, guarda. No, anche lì non è cambiato niente. Sai, spesso si fanno sì queste domande in cui pubblichi un libro, ha successo oppure ti succede qualcosa di importante nelle vite e ti chiedono come sei cambiata. In nessun modo, è cambiato soltanto il modo in cui io magari mi rapporto alle cose, a me stessa, ma non, ecco, io non sono cambiata. E invece, hai già qualche idea per il prossimo libro o altri progetti lavorativi? No, per adesso no. Per adesso mi godo un po' di tranquillità e aspetto che questa brutta fase passi. Passi. Brutta fase per tutti, ovviamente. Va bene. Allora, io intanto ti ringrazio, faccio vedere nuovamente il tuo libro, Queri Arcani della Mondatori, e aspettiamo le tue prossime novità editoriali. Grazie, ciao Margherita. Grazie, grazie a te.